Allora siete pronti? Stiamo per cominciare! Una parola d'ordine, far ridere! Ogni puntata 20 nuovi talenti comici e 3 minuti per esibirsi Ma soltanto uno sarà il vincitore E ci sarà a giudicarli una giuria eccezionale veramente! Ogni puntata un giurato d'eccezione Senti Diego, l'hai detto che presento io, vero? Sì? No, pensavo di non dirlo per tenere su l'audience, non vorrei subito partire in picchiata, capito? E con durato il tutto? Gabriele Cirilla! Gabriele Cirilla! Grazie Diego! Prego, prego! Eccezionale veramente! Da giovedì 17 marzo alle 21.10 Ci vediamo sulla 7!